Si tratta di un progetto di collaborazione con i centri per la formazione permanente degli adulti, il Comune di Chieti, la protezione civile, Lega Ambiente e anche Formula Ambiente. Si tratta di un modulo di educazione, di formazione civica e ambientale rivolto ai cittadini stranieri che risiedono nel Comune di Chieti e che ovviamente accedono a questi corsi di lingua italiana presso i CPA. Quindi non solo un modo di insegnare loro la lingua ma anche un modo di ambientarsi e inserirsi nel mondo lavorativo della città. È un vero e proprio progetto di integrazione culturale che ci permette di aumentare la capacità della nostra città di accogliere i cittadini stranieri che sono sempre più numerosi. Noi abbiamo una crescita costante della presenza di cittadini stranieri a fronte di un calo demografico che proprio deriva dalla cittadinanza autottona, quindi dai teatini. Quindi i nostri cittadini stranieri che continuano a popolare sempre di più il nostro territorio è giusto che abbiano la possibilità di avere degli strumenti per vivere meglio il territorio in armonia con quelle che sono anche le nostre abitudini, le nostre regole di salvaguardia dell'ambiente e di convivenza. Il progetto è rivolto ai cittadini stranieri, però è un progetto chiaramente di formazione civica e di educazione ambientale, perciò in qualche modo tende... Tra l'altro uno degli aspetti molto interessanti è che questo progetto di inclusione è un progetto di inclusione urbana, cioè sono previste tutta una serie di esperienze urbane, sia di carattere civico, considerando anche le visite ai luoghi in cui si svolge, diciamo, l'assise cittadina, quindi il consiglio comunale, gli ambienti proprio dell'amministrazione comunale e i luoghi della cultura, quindi i musei, le aree archeologiche, diciamo, è un progetto inclusivo che tende in un solo abbraccio a considerare come importanti sia l'area della protezione ambientale, dello sviluppo sostenibile, che l'area appunto della formazione civica.